Grazie, grazie a tutti. Allora, mi serve l'aiuto di qualcuno di voi. Posso chiedere il tuo aiuto? Ah, prego, sali. Ciao, piacere, Flavio. Allora, un mazzo di carte. Facciamo controllare tutte quante diverse l'un dall'altro. Sì, sì, sì. Bene. Ora, fare una cosa, dimmi pure stop quando vuoi te. Vai, stop. Qui, prende la carta, guardala, non me la far vedere. E poi ancora, dimmi stop quando vuoi. Stop. Vai, metti la carta. Allora, la tua carta dispersa nel mazzo di carte. Ok, poi sono al posto, grazie mille. Ora, voglio ritrovare la tua carta in maniera molto, molto particolare. Infatti, lo farò con l'aiuto. Sai, alcuni prestigiatori hanno degli assistenti. Ecco, io ho un'assistente molto particolare. Ecco qua. Ho infatti la mia fratta. Sì, guarda, è pericoloso, bisogna infatti un pochino domarla. La mettiamo qui dentro. Mi raccomando. E poi mettiamo anche il mazzo di carte. Qui. Ok. Ora, una bella shakerata. Sì, perfetto. Allora, Marco, scusa, puoi dire per la prima volta che carta hai scelto? Jack di quadri. Il jack di quadri hai scelto, sì. Allora, vediamo se... Magicamente la mia gravatta ha preso una carta e esattamente il jack di quadri. Beh, grazie, grazie mille. Esattamente il jack di quadri che consegniamo al nostro mazzo. Grazie mille. Grazie mille. Ciao.